Siamo sulla strada giusta da due giorni, Molise senza nuovi casi positivi, ma per il direttore generale è necessario non abbassare la guardia. Intanto il forum per la sanità pubblica torna a chiedere l'istituzione di un centro Covid. Medico aggredito, solidarietà unanime, l'anestesista David Di Lello, picchiato dal parente di un paziente al veneziale di Isernia, chiesta la riattivazione del posto di polizia all'ospedale. Piazza pulita, chili di droga sul mercato, i carabinieri fanno il punto sulla maxi operazione della scorsa settimana, impressionante il quantitativo di stupefacenti che circola nelle piazze molisane. Misteri, la sfilata sarà virtuale. Saltata la tradizionale processione comune e regione lanciano Ingegnarsi, maratona sul web di quattro giorni con artisti, scrittori e musicisti. Calcio a 5, Montemuro si è dimesso e il presidente della divisione ha annunciato il suo addio. Stagione dichiarata conclusa in stand-by, promozioni, retrocessioni e aiuti economici ai club. Buongiorno dalla redazione di Telemolise, in apertura oggi parliamo dell'emergenza coronavirus. Abbiamo in collegamento diretto il direttore dell'ASRE, Moreste Florenzano, con il quale faremo adesso un punto della situazione. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Allora, ieri noi abbiamo provato a fare nel nostro TG un quadro, un riassunto dei dati dell'ultima settimana. Insomma, il trend è senza dubbio positivo, sempre meno contagiati e sale invece di tanto il numero dei guariti. Da due giorni zero nuovi casi, sia ieri che l'altro ieri. Abbiamo titolato Siamo sulla strada giusta. È così? Sì, siamo sulla strada giusta. Anche un'ulteriore osservazione è che il numero dei guariti ha superato ormai già da alcuni giorni il numero delle persone positive. Quindi anche questa indicazione ci fa capire che siamo su una strada buona. Ovviamente, come dicevate anche nei titoli, non bisogna abbassare la guardia perché il virus cova sempre sotto la cenere. Senti, è cambiato qualcosa nelle ultime ore per quanto riguarda chi rientra da fuori regione? C'era prima l'obbligo di quarantena, adesso insomma è cambiato. Quali sono le norme in vigore in questo momento per chi torna in Molise? L'ordinanza non è stata prorogata, quindi attualmente non c'è più l'obbligo. È ovvio che però rimangono tutte le misure precauzionali, quindi sicuramente quello in presenza di sintomi o di alcune situazioni, quelle di segnalarsi immediatamente al proprio medico curante e quindi di procedere come facevamo anche all'inizio della pandemia con l'adeguata profilassi. Quindi non c'è più l'obbligo ma ovviamente resta l'importanza di verificare attentamente il proprio stato di salute. Dottore, facciamo il punto anche sui test sierologici. Stanno andando avanti? Stanno andando avanti i test sierologici, sia quelli che abbiamo acquistato in proprio e processiamo come ASDREM e sia da oggi la famosa indagine fatta dal Ministero con l'ISTAT. Ricorderete tutti che il Molise è stato inserito in questa modalità di indagine, sono stati destinati 5 mila test. Cominciamo con 750 in alcuni comuni che sono stati individuati direttamente dall'Istituto di Statistica e dopo questi 750 l'indagine verrà allargata fino a raggiungere il numero di 5 mila. Oggi sono cominciati i primi prelievi. Questo è un test sierologico non con il pungidita ma proprio con il prelievo del sangue. Quindi ha ancora un'attendibilità maggiore, ovviamente non paragonabile a quella del tampone. Quindi ripetiamolo sempre, l'esito di questo test non dà una patente di immunità. Bene, io la ringrazio. Attendiamo il nuovo bollettino per questa sera. Arrivederci. Grazie ancora al direttore dell'Asia in Florenzano. Noi però restiamo in tema, parliamo ancora di sanità e di coronavirus. L'alibi dei soldi che mancano non regge più. Occorre urgentemente in Molise un ospedale dedicato alla trattazione del Covid-19. Lo dice Italo Testa, presidente del Forum per la Sanità Pubblica di Qualità. Dovremo ancora convivere a lungo con la pandemia, dice Testa. Non possiamo farci trovare impreparati. Il servizio di Pasquale Di Bello. L'idea di un centro ospedaliero interamente dedicato alla trattazione dei casi di infezione da Covid-19 va di pari passo in Molise sin dall'inizio della pandemia. Sulla questione si sono espressi molti con opinioni e sfumature diverse. E adesso interviene pubblicamente, dopo averlo fatto riservatamente da tempo nelle sedi romane, Italo Testa, il combattivo presidente del Forum Molisano per la Sanità Pubblica di Qualità. Senza tanti giri di parole, Testa va dritto al cuore del problema. Avere un ospedale dedicato per la trattazione del coronavirus è un fatto logico che stabilisce la medicina, ma che ha stabilito anche il Ministero per la Salute e che a gran voce chiedono i sindaci. Cosa si nasconde, dice Testa, dietro alla mancata adozione di un centro dedicato ai casi Covid? Che cosa nasconde questa mancanza, questa non volontà di fare un ospedale Covid nel Molise? Qual è la razio per non farlo? Non sono riuscito a darmi, oddio, sono tutte risposte che mi do partendo dal passato, dalla situazione da chi comanda nella regione Molise e chi comanda realmente la sanità della regione Molise. La principale obiezione che è stata mossa alla costituzione di un ospedale Covid dedicato è quella della mancanza di risorse, un alibi, secondo Testa, che non può più reggere. E' chiaro che soldi non ce ne stanno, è chiaro però allo stesso modo che adesso debbono arrivare per queste parecchi soldi da parte dell'Europa che andranno alla sanità, basta con questo discorso dei fondi, perché abbiamo capito che i fondi non ci stanno perché sono spesi male, sono stati spesi male, sono stati dati ai privati e non sono stati versati nelle casse della regione, quelle che sono stati pagate dai molisani. Quindi è una scusa banale. In questi mesi di pandemia il forum non è stato fermo, al contrario, ha preso carta e penna e ha scritto sia al ministro per la salute Speranza sia al presidente Conte. Ahimè, dice Testa, al momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Spero, dice sempre il presidente del forum, che a Roma ascoltino almeno Giustini, che è un loro funzionario. A onor di cronaca va aggiunto a quanto dice Testa che il commissario Giustini lo scorso gennaio ha chiesto al governo di azzerare il debito sanitario molisano. E' questa la strada maestra anche secondo Testa perché, dice, la salute non può essere monetizzata. Noi in questo periodo di apparente silenzio abbiamo scritto più volte al ministro e al viceministro della Sanità ma anche al presidente perché venisse azzerato il debito molisano, che si facesse una legge come quella della Calabria. Così ci siamo espressi con i ministri. perché non è possibile che dopo dieci anni di commissariavento, compresi i commissari di tutti quelli che sono provenuti da Roma, hanno dovuto mantenere un debito così. A chi interessava mantenere questo debito? Cioè ci sono delle responsabilità dietro a questi debiti. Noi abbiamo chiesto, non abbiamo avuto risposte. La salute dei cittadini non può essere monetizzata come è stato fatto finora. E farsi trovare impreparati per un'altra ondata solo per motivi economici grida vendetta. E adesso andiamo a Isernia. Continua a far discutere l'aggressione subita al veneziale dall'anestesista David Dilello, colpito con un pugno dal familiare di un paziente. Sulla violenza e i danni del dirigente medico sono intervenuti anche il direttore dell'Aseren Florenzano e il presidente dell'Ordine dei Medici di Isernia Crudele. Entrambi chiedono la riattivazione del posto di polizia e il servizio di Sergio Di Vincenzo. Non è un caso che il Parlamento abbia accelerato l'iter per giungere a una rapida approvazione del disegno di legge che mira a dare maggiore sicurezza a chi lavora nel mondo della sanità. L'aggressione subita dall'anestesista David Dilello al veneziale di Isernia non fa altro che confermarlo. Ero stato chiamato per un'urgenza. Appena sono arrivato, ha spiegato il dirigente medico Isernino, una persona mi ha chiesto se ero un reanimatore e mi ha sferrato un pugno. Nonostante fossi tramortito, ho prestato assistenza e poi mi sono recato in pronto soccorso, non potendo portare a termine il turno per le condizioni di salute. La prognosi per lui è di otto giorni. Oltre a presentare denunce in questura, Dilello ha chiesto alla ASREM di avviare un'indagine interna. Al tempo stesso si è posto un interrogativo. È possibile che in piena emergenza coronavirus siano presenti in ospedale persone diverse dai malati? E se lo chiede anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Isernia, Fernando Crudele, che oltre a esprimere solidarietà e sostegno al collega, torna a proporre la riattivazione del posto di polizia al veneziale. Più una serie di misure per proteggere anche le guardie mediche, attraverso la videosorveglianza e sistemi d'allarme collegati alle sale operative delle forze dell'Ordine. Sulla stessa linea, anche il direttore generale della ASREM, Oreste Florenzano. Un episodio che ci rattriste e ci inquieta, commentato nell'esprimere solidarietà a Dilello, ha sottolineato che la violenza, qualunque sia la causa scatenante, non è mai la risposta giusta, a maggior ragione, perché operiamo tutti per un unico interesse, il bene del paziente. Il tema della sicurezza nelle strutture ospedaliere, ha detto ancora, è annoso e riguarda ogni realtà. Si tratta di una priorità dell'ASREM, accentuata anche dall'emergenza che stiamo vivendo. Isernia aveva un posto di polizia. Avvieremo un dialogo con il questore e le autorità competenti, ha concluso Florenzano, per cercare di trovare una soluzione che possa garantire maggiore sicurezza agli operatori e ai pazienti del Veneziale. In Consiglio regionale, seduta incandescente oggi quando al termine della mattinata il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, ha chiesto l'iscrizione e l'immediata discussione di una interpellanza nella quale ha chiesto al Presidente Toma di ritirare tutte le deleghe all'assessore Niro. Motivo della richiesta, la presenza di Niro ad Agnone durante il lockdown ad una riunione, a suo dire, politica. L'iscrizione dell'interpellanza è stata votata all'unanimità, ma non l'immediata discussione. In chiusura di seduta, Niro ha comunque chiesto di parlare per fatto personale e ha ricostruito la vicenda parlando di clima offensivo e pretestuoso nei suoi confronti. L'assessore ha confermato la sua presenza ad Agnone di essere stato fermato dai carabinieri fuori dalla casa dove è avvenuto l'incontro, ma di non aver ricevuto alcuna contestazione né verbale. Ho preferito andare io ad Agnone per motivi di sicurezza, ha poi spiegato perché la situazione di Campobasso era più complessa di quella del comune alto molisano. E' sempre in Consiglio regionale. Stamattina è stata approvata all'unanimità la legge di Aida Romagnolo che prevede un contributo per l'acquisto di una parrucca a favore dei pazienti molisani oncologici affetti da alopecia a seguito di cure contro il tumore. Particolarmente commossa ma estremamente soddisfatta, la consigliera Romagnolo ha ritenuto di ringraziare tutti i consiglieri regionali che hanno votato la legge. Con questa approvazione ha vinto il Molise dei migliori, quello che ha maggiormente bisogno delle presenze delle istituzioni al loro fianco. Ascoltiamo una sua dichiarazione. Sono felice che finalmente è stata approvata questa mia legge che interviene a favore di quei pazienti affetti da alopecia a seguito di cure antitumorali chemioterapiche riconoscendogli un contributo di 250 euro per l'acquisto di una parrucca. Curare un paziente non vuol dire solamente cercare di eliminare le patologie che lo affliggono ma intervenire anche a favore del suo benessere psichico e cercare di creare le condizioni ambientali più adatte affinché lo stesso possa guarire. Le cure antitumorali comportano oltre alla perdita dei capelli del paziente ma anche degli effetti negativi psicologici che spesso invadono la sfera personale ed intima conducendoli all'isonamento con rifiuto di uscire di casa e vedere altre persone proprio nel momento in cui i rapporti umani sarebbero più utili. La parrucca dunque dando continuità all'immagine corporea e conferendo senso di sicurezza rappresenta un accorgimento che aiuta la persona ad affrontare le difficoltà ed ad avviare un processo di adattamento fortemente attivo e funzionale alla lotta contro la malattia migliorando la qualità di vita e ritorno al lavoro e la socialità. La misura del contributo viene concesso a chi è affetto da alopecia a seguito di cure antitumorali, a chi è residente nella regione Molise e chi ha una dichiarazione ISE pari o inferiore a 20.000 euro. Volevo ringraziare tutti i miei colleghi che hanno dimostrato una grande sensibilità e la commissione che ha tenuto in esame questa mia legge. Adesso cambiamo argomento, è uno dei lavori più sicuri stando ai dati forniti dall'Inail, quello della campagna. Solo 7 contagiati dal coronavirus sul posto di lavoro su oltre 43.000 denunce pervenute all'Istituto degli infortuni. La Coldiretti così rilancia le vacanze negli agriturismi. Ce ne parla Giovanni di Tota. Gli ampi spazi delle campagne abbassano il rischio del contagio. Riprova ne è il dato scaturito da un'analisi di Coldiretti sulla base delle denunce complessive di infortunio pervenute all'Inail tra la fine di febbraio e il 15 maggio, secondo cui delle oltre 43.000 denunce di infortunio da coronavirus al lavoro, appena 7 riguardano l'agricoltura, un settore che peraltro non ha mai smesso di lavorare per garantire le forniture alimentari a tutto il paese. Un dato ha osservato Aniello Ascolese, direttore regionale di Coldiretti, che dimostra il maggior livello di sicurezza nelle campagne dove si lavora spesso all'aria aperta ed è più facile mantenere le distanze grazie a grandi spazi disponibili. Si tratta di una buona notizia, ha aggiunto, sia per quanti lavorano nelle campagne di raccolta estiva, sia per chi sceglie di passare le vacanze a contatto con la natura nei 24.000 agriturismi dislocati in Italia. Gli agriturismi, spesso situati in zone isolate della campagna, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola con ampi spazi all'aperto, sono forse, sottolinea la Coldiretti, i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mure domestiche. Con l'arrivo della bella stagione poi, sostenere il turismo in campagna significa evitare anche il pericoloso rischio di affollamenti al mare o nella città. I dati dell'Inail, osservano ancora da Coldiretti, aprono anche la strada alla disciplina della quarantena attiva per consentire ai lavoratori provenienti dall'estero di collaborare immediatamente in azienda tenendosi separati da altri dipendenti. Una soluzione che, conclude la Coldiretti, consente di garantire professionalità ed esperienza alle imprese agricole italiane grazie al coinvolgimento temporaneo delle medesime persone che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio paese d'origine. Tra i problemi che stanno segnando la ripartenza delle attività commerciali ci sono quelli legati alla burocrazia. C'è tanta confusione e il rischio di non riuscire a rispettare tutte le prescrizioni è elevato. Federe imprese da alcuni consigli utili soffermandosi anche sulla questione degli assembramenti davanti ai locali. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Da parte dei commercianti, dei gestori di bar, pub e ristoranti c'è tanta voglia di ripartire ma la riduzione del volume d'affari preoccupa solo in parte così come la necessità di ottimizzare gli spazi e assicurare la massima sicurezza ai clienti. Il problema sembra essere un altro e cioè quello di orientarsi nella selva oscura della burocrazia. Si è costretti a firmare una mola impressionante di documenti con il timore di sbagliare e di prendersi una multa salatissima. Per evitare tutto questo il presidente regionale di Federe imprese Antonio Di Franco fornisce qualche consiglio utile. Il consiglio che ho dato e che continuo a dare ai commercianti, ai nostri associati ma anche agli altri commercianti è di seguire quello che c'è scritto molto semplicemente. Ci sono le linee guida dei vari settori che sono state pubblicate una settimana fa e tra l'altro oggi ne sono uscite delle nuove per altri settori fare quello che c'è scritto. Tutto quello che non c'è scritto non è obbligatorio farlo quindi se c'è scritto si può misurare la temperatura ai clienti e dipendenti vuol dire che lo si può fare non lo si deve fare. Questo è un esempio quindi è una cosa molto molto semplice. Per quanto riguarda l'altra problematica è quella del fatto che i clienti hanno ancora un po' di timore ad uscire di casa e a recarsi nelle attività ma io posso sentirmi tranquillamente di dire che possono stare tranquilli perché tutte le attività si sono adoperate per rendere in sicurezza il più possibile i propri locali. Il presidente regionale del sindacato delle piccole e medie imprese è intervenuto anche sugli assembramenti davanti ai locali nelle ore serali. Sarebbe un errore penalizzare gestori visto che stanno facendo l'impossibile pur di evitare ogni problema ha detto Di Franco ma tutti dovrebbero fare la propria parte. Ci sono alcune tipologie sociali come gli adolescenti e post adolescenti che non rispettano al 100% le regole. Era da mettere in preventivo se si è presa una decisione di fare aprire le attività bisognava pensare anche che ci sarebbe stata questa problematica. Sicuramente non è addebitabile agli esercenti, i nostri possono penalizzare ulteriormente gli esercenti dopo tutte le difficoltà che hanno avuto. Quindi ci sono gli organi preposti, ci deve essere la sensibilizzazione, i commercianti faranno e stanno facendo la loro parte però adesso è giunto il momento di dire basta a qualsiasi tipo di penalizzazione perché il danno all'economia, inferto all'economia è stato enorme, non si può più consentire un proseguimento su questa strada, di conseguenza ognuno deve fare il suo e ognuno deve ragionare con una certa logica. A proda anche in Molise il movimento esami di stato online che chiede al governo di non fare gli esami con la presenza fisica degli studenti per evitare il rischio contagio. Enzo Di Gaetano ha intervistato Federico Simeone, un maturando diciottenne di Montaquila che è il rappresentante del movimento per Abruzzo e Molise. Vediamo. Federico Simeone è lui che per l'Abruzzo e il Molise è un ragazzo di Rocca Ravindola, di Montaquila, è lui che rappresenta per il Molise e l'Abruzzo e per tutte e due le regioni il movimento 2020 Maturità Online. Che cosa chiede questo movimento Federico? Questa richiesta parte appunto per la tutela della salute pubblica di tutti noi, da professori, da alunni, da genitori che accompagneranno gli alunni, dal personale ATA, per tutelare insomma la nostra salute e renderci più sicuri. Cioè secondo te l'esame di stato può essere effettuato online senza problemi? Sì, secondo me sì, perché abbiamo fatto le videolezioni per circa due mesi, quindi diciamo che il metodo lo abbiamo imparato, sappiamo muoverci, spaziare su questi siti di videochiamate e altro. Oltretutto tu avresti un problema, essendo un molisano che studia in Abruzzo, anche quello del trasferimento tra le regioni praticamente, giusto? Leggendo questa mattina vari giornali, vari test, leggevo appunto che stavano pensando di ritornare indietro e non permettere gli spostamenti tra la regione. Quindi mi veniva da pensare, se non permettono gli spostamenti tra la regione, perché noi dobbiamo andare e dobbiamo rischiare magari noi che ne sappiamo se abbiamo un virus o lo andiamo a prendere? Che cosa ha fatto il tuo movimento a livello nazionale? Ha parlato con il ministro, con il governo? Che cosa vi hanno risposto? Noi pensiamo di inviare tutte le documentazioni alle seti regionali di competenza che poi dovranno trasmettere al governo attuale. Mi diceva il presidente di questa associazione che ha avuto dei contatti appunto con parte del governo e anche loro si sono mobilitati in un certo senso a vedere se si può fare qualcosa. È necessario che il Comune di Campobasso pianifichi gli interventi per consentire agli studenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado di poter partecipare alle attività didattiche in totale sicurezza. Lo sostengono i consiglieri comunali di minoranza, Maria Domenica d'Alessandro, Alberto Tramontano, Alessandro Pascale, secondo i quali la politica cittadina è chiamata ad anticipare le decisioni e ad elaborare soluzioni. Non si può attendere, dicono, l'azione di un governo centrale che spesso fa sfoggio di totale incompetenza e mancanza di contatto con la realtà. La cronaca Piazza Pulita è stata un'operazione antidroga importantissima coordinata dalla direzione distrittuale antimafia eseguita da Carabinieri e Guardia di Finanza, operazione che ha permesso di stroncare un soddilizio criminale molto pericoloso sul territorio, capace di mettere sul mercato ingenti quantitativi di droga. Un viatico per far entrare il Molise nella malavita organizzata in Molise. In una conferenza stampa stamattina i carabinieri hanno evidenziato alcuni aspetti importanti di questa inchiesta. Per noi c'era Tonino Danese. Sono state tutte eseguite le misure cautelari della maxioperazione antidroga. Piazza Pulita coordinata dalla direzione distrittuale antimafia con a capo il procuratore Nicola D'Angelo ed eseguita dai carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso e dalla Guardia di Finanza. Anche il 39esimo indagato, un campano, è stato arrestato nel giro di poco dopo che aveva fatto perdere le tracce. Nel giro di un anno e mezzo, ha detto il comandante provinciale dell'arma Emanuele Gaeta, abbiamo eseguito sette operazioni prendendo tutti gli indagati. Spesso normalmente come percentuale un 10-15% sfugge la cattura per vari motivi. Invece questo dato mi preme particolare ed è importante perché fa capire la meticolosità e l'impegno che hanno messo i reparti dell'arma, in questo caso nell'ultimo al nucleo investigativo, nel non solo fare le indagini per ottenere gli elementi di prova sufficienti a fare mettere al GIP le misure, quindi l'ordinanza di custodia cautelare, arresti domiciliari o di vieti di dimora, ma soprattutto nell'individuare con precisione i luoghi dove queste persone vivevano barra nascondevano e trovarli tutti nella stessa giornata ad eccezione di uno che ha allungato un pochettino la sua fuga ma è stato preso il giorno dopo che è la 39esima persona. Quindi insomma e neanche nelle altre operazioni il dato è che sono state prese tutte e non solo, c'è stato anche qualche arresto in flagranza per qualche perquisizione suppletiva, aggiuntiva. Gaeta ha evidenziato che le operazioni antidroga non finiscono qui perché la lotta allo spaccio al consumo di stupefacenti è serrata e senza tregua per i venditori di morte. Noi dobbiamo fare in modo che il cittadino sappia che l'arma dei carabinieri in questa provincia è attivissima e continuerà a combattere il crimine in genere e in questo momento particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il comandante del reparto operativo di Campobasso Alessandro Mennilli ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dagli uomini dell'arma di tutti i reparti e nel caso particolare dal nucleo investigativo guidato da Vincenzo Di Buduo. La droga è la chiave della criminalità organizzata per entrare nel territorio e a Boiano. La mala campana si appoggiava a famiglie radicate sul posto, è stato detto, e con piazza pulita sono stati colpiti tre sodalizi che garantivano un rifornimento costante di cocaina ma anche eroina e hashish fino a 5 kg in un mese in ambiti ristretti. Sì, questo è un dato che emerge in maniera inconfutabile sia dall'attività tecnica e dall'attività di indagine. È una battaglia che il procuratore D'Angelo sta conducendo con l'ausilio di tutte le forze di polizia, con l'ausilio anche degli avvocati, ha chiamato anche voi come giornalisti a reclutarvi in questa battaglia. Però è un dato inconfutabile, è incontrovertibile, ovviamente che c'è questa richiesta e quindi ci sono numerosi acquirenti qui nell'area. L'operazione dei carabinieri insieme alla finanza ha portato al sequestro di beni legati al riciclaggio che ha creato un mercato concorrenziale sleale a svantaggio di chi lavora onestamente. Intanto durante la conferenza stampa dei carabinieri a Campobasso è stata comunicata la notizia che dopo sei anni alla guida del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale del capoluogo Vincenzo Di Buduo a settembre avrà un incarico in Nord Italia, dunque lascerà il Molise. La polizia stradale invece ha sequestrato una macchina intestata ad un uomo della provincia di Campobasso, la quale risultava far parte di uno stock di auto frutto di appropriazione in debita nella Repubblica Ceca. È stato accertato che l'uomo era intestatario della macchina sua insaputa, mentre in realtà ne aveva acquistata un'altra della stessa marca. Dalle indagini è emerso che nella concessionaria di Isernia, dove era avvenuto l'acquisto, allo stesso era stata intestata anche un'altra vettura dello stesso tipo tramite un'agenzia di pratiche auto, agenzia che utilizzando i documenti dell'ignaro acquirente aveva rilasciato un documento di circolazione all'effettivo possessore, residente invece in provincia di Caserta. È in corso in Europa la revisione del regolamento sui controlli sulla pesca e in c'è l'inserimento delle telecamere a bordo dei pescherecci. L'ennesimo regolamento vessatorio, secondo Federcop Pesca del Molise, è contraria alla possibile novità. Si chiedono invece interventi di semplificazione e sostegno alle imprese da termoli. Sentiamo Manuela Iorio. L'Europa si prepara a mettere un nuovo paletto tra gli adempimenti per le imprese ittiche. È in corso infatti la revisione del regolamento sui controlli e l'orientamento e quello di imporre l'obbligo delle telecamere a circuito chiuso a bordo dei pescherecci. Dopo il computer tablet per segnare le catture e il sistema blue box satellitare per controllare e tracciare gli spostamenti in mare, sempre a carico degli armatori, ora arriva questa novità delle telecamere. A lanciare l'allarme sulla scia dell'alleanza delle cooperative della pesca è la Federcopesca Molise, diretta da Domenico Guidotti, secondo il quale il rischio è anche quello di violare le norme sulla privacy dei marittimi. Una impresa ittica su due rischia di scomparire piegata dalla crisi ingenerata dalla pandemia, ha commentato Guidotti. Occorrono liquidità e iniziative per favorire i consumi e valorizzare le produzioni. Ad oggi i pescatori sono gli unici a non aver avuto nessun tipo di contributi per il coronavirus aggiunto, ma ci piovono dall'alto altri paletti assurdi che esasperano l'attività degli operatori, imponendo ulteriori lungaggini burocratiche, mentre il mondo produttivo chiede a gran voce una semplificazione. Secondo Federcopesca il sistema delle infrazioni gravi, con tutto il carico sanzionatorio che comporta, ha contribuito a creare distorsioni eccessive tra pescatori appartenenti a differenti marinerie, oltre che tra pescatori UE ed extra UE. Nuovi nasprimenti potrebbero far aumentare questi squilibri, creando ulteriori penalizzazioni. Si tratterebbe di un ennesimo regolamento vessatorio che si aggiunge a controlli sempre più stringenti per la marineria molisana, già soggetta, fa notare Guidotti, ha ripetuti e severi controlli con sanzioni importanti. Chiederemo a gran voce, con tutte le nostre forze all'Europa, di respingere le proposte di modifiche del regolamento sui controlli, così come sono state pensate, e dare vita invece ad una riforma che coniughi il rispetto delle regole con la possibilità di fare impresa, ha concluso Guidotti. E come è noto quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, i misteri non sfileranno per le vie di Campobasso. Una tradizione così importante però non poteva essere del tutto accantonata. Ecco perché nell'ambito del progetto Region Arts, regione comune di Campobasso, hanno ideato ingegnarsi, sfilata virtuale degli Ingegni del Dizzino, una maratona sul web di quattro giorni, dal giovedì antecedente la festività del Corpus Domine fino a domenica. Attori, scrittori, musicisti, animatori, disegnatori, fumettisti, illustratori, street artist, fotografi supportati da informatici, tecnici del suono e dell'immagine, lavoreranno in team per rappresentare con soluzioni creative i 13 misteri attraverso la descrizione dei personaggi e della vita dei Santi che animano gli Ingegni, l'arrangiamento del Mosè in Egitto di Rossini, musica che tradizionalmente accompagna la sfilata e la rappresentazione grafico-visiva dei misteri in estemporanea. Con le immagini dei misteri si chiude il nostro telegiornale, vi lascio al meteo, poi ci sono come sempre le notizie sportive, noi ci vediamo più tardi, vi auguro un buon pomeriggio.